Un amico di un amico e un amico di un amico mi ha detto che forse è possibile che io lavori un po'. Adesso all'inizio della prossima... Dopo andiamo a mangiare una pizza, mi raccomando, tutti quanti. Tu che cosa dici? Non so se potessi fare qualche passaggio in tv. Vediamo un attimo come stanno le cose. No, no, guarda che bello, stupendo, ma dove l'hai preso? Nico, lo sai che io non so neanche come vi siete conosciuti, com'è andata? Me l'ha presentato un mio amico, è stato il mio incontro con la felicità. Come il poeta Omero, solo davanti al mare, l'alba sento arrivare e non l'oscurità. notte mi hai regalato un nuovo desiderio, mi sveglia le sirene dentro di te e mi chiedo perché. Nonostante tu, a parte in sé, hai già scelto di amare me. Quante barriere assurde fra noi e la felicità, ma dolce naufragare in questa infinita... Primo incontro, sto preparando una fanzine e cerco un fotografo underground. è colpito dalla mia voce dietro la porta.